appuntamento con American Track Simulator. Oggi andremo a fare un trasporto come sempre molto particolare ed è quello di prefabbricati di case. Partiremo da, mi sono dimenticato, da Tucumcari e arriveremo a Fresno. Ci sarà un bel po' di strada da percorrere insieme. Ok allora intanto riscaldiamo un bel motore e attendiamo che arrivi qualcun altro. E poi partiamo tutti insieme a core a core appassionatamente per questa nuova ventura. Fermus 08 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. Fabrizio D'Abbuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi, come già anticipato prima, trasporteremo prefabbricati di case. Hi, welcome everybody. Welcome to our rendezvous. In every Saturday. Today we will transport part of prefab houses. Figura di Ferbus. Non ci sono problemi. Please subscribe to the channel of my friend Ferbus 08. Amici che state guardando il video, questa live, voi che guardate questo video in differita su YouTube, mi raccomando passate nel canale dell'amico Ferbus 08. Lasciate un bel follow che è praticamente gratuito. E così permettiamo anche al canale dell'amico Ferbus di poter crescere. Ovviamente iscrivetevi anche agli altri canali degli amici che, insomma, voi ben conoscete. che sono Marco 871, Barba Bianca, Ferbus già detto. Poi c'è ancora Renegade, l'amico Alessandro Biella 81. Insomma, cercate insieme a me di sostenere i piccoli streamer, che sono quelli lì, insomma, che partono da zero. un po' comune. Grazie mille a tutti e buona live. Fabrizio Dav2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. Thank you everybody. So, please. So, please follow the channel. Funziona adesso? Grazie per le informazioni tecniche. Perfetto. Allora partiamo. Allora, ancora qualche istante, come al mio solito, e poi partiamo per questa lunga, lunga trasferta qua. Porto pezzi di case prefabbricati. Quindi, il camion è sempre lo stesso. E' il Frightliner. So, we are ready to go. Fabrizio Dav2 ha effettuato un ride. Uno Raiders entrati nello stream. Benvenuti. Grazie mille a tutti. Benvenuti e grazie per il ride. Allora, io direi di partire. So, So, we will now begin our trip. No. Ottimo. cosa porti di bello questa sera, Fatbus. One thousand mile. Mille miglia. Allora, per quanto riguarda le barbabietali, io ti consiglio di farti una bella scorta. e poi una piccola parte la vendi. La restante parte ti consiglio di tenerla per i maialozzi, perché ti torna sempre utile. Sì, se il prezzo non è buono, converebbe attendere ancora un pochettino prima di vendere le barbabietole. So, friends. If you are playing to Farming Simulator 19 Farmboost 08C and if you can sell his sugar beets or restore them. So, I propose him to restore them for using as food for pigs. and if you in future you will sell them I suggest you to to take a look at the price if the price is on the top so you will you will sell them. E Fairbus ho spiegato un po' anche gli amici che stanno guardando il video la live scusami anche chi guardare il video il quesito che mi hai posto e come ho detto anche a te ho consigliato loro di di tenere le le barbabietole e venderne una piccola parte soltanto cioè vendere una piccola parte e tenere il resto per alimentare i maialozzi ottimo The Sims 4 io ho giocato alla prima versione e mi sono divertito un sacco veramente qualcosa di incredibile per l'epoca The Sims 1 che per l'epoca fu un gioco molto particolare e e quindi fece un bel botto come si dice in gergo cioè il boom per quanto riguarda diffusione la diffusione del gioco I played two sims 1 a couple of maybe ten year ago or so much e è stato un gioco molto innovativo per l'ora e per l'ora ora il mio amico Ferbus è portato a SimS4 gli ho detto agli amici che parlano l'inglese io l'ho tradotto in italiano in più ho aggiunto che ovviamente tu stai portando la versione 4 DeadSins che è tutto a un altro livello a livello proprio del gioco di parole molto più avanzato praticamente parlando qui e la carissimo super mega presidente talebano 77 sempre presente KK ha 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 please friends follow as well the channel of my friend talebano 77 seguite anche per gli amici che parlano in italiano invece seguite anche l'amico Ferbus tutto bene tutto bene mi sono messo un po' alla guida qua con con questi bestioni americani allora per gli amici che guardano Twitch il canale talebano 77 la zappa storta ogni tanto ogni tanto qua mi metto a fare un po' di pubblicità vado bene vado bene a fare i testimonial per gli amici streamer che dite eh 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 oh qua mi sto ribaltando come a mio soldo sempre passo sia dal tuo canale che nel canale di di Ferbus devi sapere che questi passaggi qua sono un po' come il portafortuna quando la squadra del cuore vince tu tieni quella stessa posizione le stesse cose che c'hai addosso un po' di scaramanzia scherzi a parte mi vengo a rilassare con voi perché come si dice a Napoli magia magia svaga un po' ca cap magia svaga nu po' ca cap con la testa devo svagarmi un po' con la testa e quindi devo devo passare un po' nei nei canali degli amici streamer sia da te la zappa storta ricordo gli amici che sia il canale di Ferbus 08 la zappa storta anche lui caro Ferbus anche lui porta il porta anche lui farming anche lui appassionato di farming però per talebano gioca su su pc rispetto a te che stai sul console però diciamo che siamo un po' tutti quanti appassionati di di questo farming e che mo mi sta pizzicando l'idea di di preordinare il 22 e ragazzi quello è così è come quando ho conosciuto Sniper Elite la saga di Sniper Elite qui c'è un punto panoramico ma andiamo subito a ad esplorare e ho giocato alla Sniper Elite 2 poi da allora non ho potuto fare a meno di giocarci su friends now we will scout this viewpoint ready go come to i i i i i i i i i Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E noi siamo tornati Ma adesso però Andiamo avanti Sì Comunque nel tuo Nel tuo canale ci si diverte Dici che è il manicomio Mi viene in mente Una battuta di Totò Che dice Che cosa da pazzi in questo manicomio Sono pezzi di prefabbricati per casa Hai un occhio molto attento Bravo Alla salute ragazzi Brindiamo insieme dai Facciamo un bel brindisi Alla salute Ah ecco qua Scusate ogni tanto mi dimentico Di non Ispirare troppo Perfetto Mi sono anche Raffreddato un po' il gargaruzzo qua E quindi io direi Direi proprio che Si può Andare avanti Eccoci qua Ho sistemato anche un po' L'overlay Così Riesco a tenere d'occhio La chat più o meno In tempo reale So I was Talking with my friend About Farming simulator 22 And My friend talebano Say Maybe Is A good thing To wait Before Buying The Preorder Of the game So Maybe It's Is The True Talebano Detto Agli Amici Che Concordo Con quello Che hai detto Tu prima Sul fatto Di Attendere Un pochettino Per Quanto Riguarda La Preventita Di Farming Anche Se Ribadisco Mi Pizzica Questo Farming Guarda E' Fattibile E' Fattibile Anche Anche se Stai Giocando A me Per esempio Ogni tanto Mi viene Quella Potta D'ispirazione E' E' Faccio Delle cose Strane Beh Bisogna Trovare Guarda E' Fattibile La cosa L'importante E' Trovare Persone Che Vengano Si Come dire A fare Pubblicità Nel Proprio Canale Nel Tuo Canale Ma Che Non Diventi Spam E Non Sia Una cosa Che E' Unilaterale Cioè Loro Vengono Su Tuo Canale Si Fanno Pubblicità E Poi Magari Non Si Fermano Per Un saluto Ma Così Giusto Pure Anche se Non Vogliono Fermarsi Alla Live Almeno Sai Uno Si Ferma Per Qualche Minuto Un saluto Scambia Una battuta E poi Se Ne Va E Bisogna Trovare Chi Riesce A Fare Una Sorta Di Come Dire Tutorial In Gaming E Quindi Come Dici Tu Scambiarsi Le Informazioni Sulle Mod Mod Io Per Per esempio Lo faccio Tranquillamente Tu hai visto Che è nel Canale Di Gire A proposito Seguite Anche 9 Gire Zero L'amico Gire Il canale Di Gire Dicevo Dicevo Che Io Non Mi Crivo Il Problema A Consigliare Delle Mod Che Ho Provato In Prima Persona E Mi Sono Trovato Bene Ad Altri Amici Mod Mod Scusa Ad Altri Amici Streamer Che Si Abbiano Trentamila Follower Piuttosto Che 300 400 Non Mi Credo Il Problema Assolutamente Che Tanto Alla Fine Voglio Dire Se C'è Una Cosa E Te La Tieni Per Ti Non Serve A Niente E Meglio Divulgarlo Poi Come Dire Tutto Ciò Che Viene Se Viene Viene Altrimenti Non Fa Niente L'importante E Creare Una Sorta Di Punto D' Incontro Per Diciamo Gli Streamer Non Particolarmente Conosciuti E E Un Po Quello Che Sto Mercando Di Fare Puri Qui So Ma I Tried To Give The Stream A Kind Of Friendship So My Livestream Are I Made Them As A Friendship So If I Know Or I Try For Example A Farming Simulator Mod I To 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 If They Have 100 200 Or 30 Thousand Followers Or Viewers I I Think This Is The Beautiful Thing It's A Great Thing Sharing Knowledge About Mods Or Other Things A Kind Of Live Stream And Tutorial During The Live Stream Helping As A Song Says People Help The People E Come Dice Una Vecchia Canzone People Help The People Gente Che Aiuta La Gente O Per Citarvi Una Canzone Che Viene Dal Musical Scunnizi Gente Magnifica Gente Di Questa Città Sperando Che Questo Canale Possa Diventare Una Una Sorta Di Piccola Città Dove Quando Quando Vado In live Insomma Ci Si Scambia Ci Si Scambia Di Loop Tutte Ste Cose Qua So I Hope To Build A Kind Of Virtual City Where People Can Meet Our People During My Live Streams And We Can Share Our Knowledge And We Will Meet Friends Scusatemi Amici Se Vi Ho Un po Come si dice In Napoli Vagia Fatta La Capatante Di Chiacchiere Ma Mi Mi Premiva E Approfitto Anche Per Ringraziare Dei Talebbano 77 Che Mi ha Dato Lo Spunto Per Ricordare Quello Che Potrebbe Diventare Una Community Insomma Di Streamer Che Si Aiutano Per Ora Insomma Si va Avanti Le Visualizzazioni In Diretta Sono Quelle Che Sono Però Fa Piacere Insomma Che Le Persone Passino Anche A Guardare Le Repliche Che Si Metteno Li Facciano Anche Visualizzazioni I Thanks Everyone I Know That My Channel Is Not Gives Not A Lot Of Visual In Live Streaming But I Proud And Thank Everyone When You Watch My Video During The Night Time And When I When I Do Replicas About My Streams So I Hope We Will Grow Up You Can theme To ah si alla fine vedi la cosa bella è proprio questa è vero che uno non ha tanti follower però magari si circonda di amici che passano il live scambiano due chiacchiere fanno una battuta insomma partecipano attivamente alla live anche se magari parlano di altre cose però il fatto che ci sono vuol dire che il canale promette bene talebano 77 sta ospitando la diretta andefi indospiti entrati nella diretta benvenuti talebano 77 ha appena brindato con 5 pizza grazie mille ci e 5 e brindiamo grazie grazie per l'hosting per me un hosting vale quanto i bitterini perché in tanti non possono scusate salute cheers perché capisco bene che non tutti possono come dire dare un contributo diciamo così remunativo anche se un piccolo sostegno e quindi quando entrano in live e mi fanno i ride e mi fa enormemente piacere quindi diciamo che cheers per me sono come quando host la mia live stream o quando fanno i ride a se i bit o other things like quindi molto apprecievo quando ho ricevuto quando ho ricevo hosting or other hosting and and raids ah talebano allora devi sapere che sulle autostrade queste qui americane ci sono delle stazioni di pesa io nel video nell'altra live precedente l'avevo accennato che cosa sono le stazioni di pesa le stazioni di pesa sono un po' come dunque dei check point della polizia stradale americana in pratica quando arrivi col mezzo sotto le antenne un po' come il telepass per farti capire ti si accendono dei led se guardi nella parte centrale della parabrezza dove c'è quella parte più scura lì c'è un piccolo ricevitore come un telepass quando passi sotto il sensore se si accende di led rosso devi fermarti alla stazione di pesa alla stazione di pesa ti fanno un vero e proprio controllo sullo stato del mezzo oltre a pesare il mezzo con il carico infatti ho visto in un video su youtube della polizia stradale americana che faceva l'ispezione sotto i camion cioè in pratica ci sono come dai nostri meccanici dei passaggi dove si può andare sotto il mezzo e controllare lo stato del mezzo se lo stato del mezzo è ok come nel mio caso perché prima di partire sono passato dal meccanico e ho fatto riparare tutto va bene ma nel momento in cui c'è qualche problema allora ti esce il messaggio e ti avvisa di fare attenzione perché il mezzo non è nelle condizioni ottimali mentre invece se su quello scatolotto si accende il led verde vuol dire che puoi passare quindi ho parlato con il mio amico sull'ispezione 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 e quindi se lo scatolotto e 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 lo scatolotto quindi se si è ok, si dice nulla ma se ci si è qualcosa di vero e le dicono che come è una macaronica traduzione per gli amici che parlano l'inglese I'm so sorry for my friends that speak very good English my English not it's not very good I'm so sorry ci arrangiamo taleba quando si ha la fortuna di avere delle persone che non sono di madre lingua italiana che masticano un po di inglese o lo manano parlano meglio di me insomma si cerca di comunicare un po' con tutti quanti sai talebano anche perché molto spesso nelle mie live soprattutto su farming entrano in live e chiedono dei consigli su una mod piuttosto su come fare qualcosa io per esempio se l'ho fatta e quindi l'ho fatto l'esperienza in qualche modo cerco di dispensare il consiglio però come mi è capitato in un'altra occasione se non lo so fare lo faccio in live in modo tale che la persona riesce a lo immagina ma poi lo vede e poi può come dire dare un tocco personalizzato al gioco infatti io lo dico sempre spero di essere come dire preso come spunto per poi poter fare molto meglio di me anche perché non mi sono mai reputato come come dicono i francesi bucavù cioè bravissimo come invece si dice in italiano anche perché diceva il grande eduardo de filippo gli esami non finiscono mai e quindi non si finisce mai di imparare per cui sono soprattutto credo di essere un po' in controtendenza rispetto agli altri nel senso che se qualcosa non è farina del mio sacco durante la live lo dico per cui se io ho preso qualcosa dal tuo canale e la metto in atto e io non è che dico questa cosa qui l'ho è farina del mio sacco ma dico chiaramente che quell'informazione l'ho presa ad per esempio dal canale di talebano piuttosto che di fern bus insomma sono fatto così sono un po così sarà un po come dire strano però diciamo la verità non mi piace arrugarmi titoli o meriti se non sono farina del mio sacco e quindi quando non è qualcosa che conosco ho appreso in prima versione lo dico chiaramente senza problemi è talebano io credo che credo in una cosa che se tu prendi spunto e fai una cosa che non è farina del tuo sacco poi devi inventarti qualche altra cosa e dico inventare non che tu ragioni e migliori su quella cosa ma ti inventi una cosa un conto è fare l'esperienza diretta e un conto è averla sentita o averla vista non è la stessa cosa perché l'esperienza diretta tu la tocchi con le tue mani la vedi con i tuoi occhi e l'ascolti con le tue orecchie mentre invece quando tu l'hai vista soltanto e la copi è un po come fare ctrl c ctrl v identica e precisa perciò alla fine io sono so fatto così cioè se non è farina del mio sacco lo dico e poi magari se ho visto quella cosa io chiedo l'aiuto a quella persona o se quella persona come dire è disposta e disponibile a fare questo scambio di conoscenza di queste cose qui ben venga altrimenti pazienza magari uno cerca di capire il meccanismo come funziona però sono fatto così nel virtuale come nel reale nella vita reale è la stessa cosa io sono appassionato di fotografia però se devo insegnare qualcosa che o devo spiegare qualcosa che ho imparato io non mi creo problemi lo faccio dicono sì però nessuno ti dice e poi se non ti dice grazie pazienza non lo dirà lui può darsi che la volta successiva troverò qualcuno che magari decisamente migliori di me impara e magari riesce a a trovare e sviluppare un suo metodo per me è una grande soddisfazione perchè parliamoci chiaramente io non voglio essere la star non voglio essere la star perchè quando ho imparato qualcosa che non è per me per me vedo perciò in conclusione talebano io credo che qualcuno non ti dirà grazie o magari qualcuno non ti farà come dire non farà conoscere il tuo canale nel proprio canale però magari potrai trovare altre due persone che nel loro canale in due ti fanno due come dire ti fanno conoscere due volte in due modi differenti a persone differenti per cui io non mi creo il problema assolutissimamente e allora siamo d'accordo vedete ho detto oramai come diceva Tato sono un uomo di mondo e quindi ho imparato un po' di cose e le persone già quando le guardo in faccia mi rendo conto di che persone sono però poi dopo devo scavare a fondo per capire ancora meglio come sono e non mi baso sulla su quella che è la prima apparenza ma vado in fondo e inizio a scrutare meglio la parte caratteriale quindi non mi creo più il problema non cioè non non ci sbatto più con la testa nel senso che se io spiego una cosa in fotografia magari quella persona non la applica uno due tre volte poi dopo non non ci non mi ci applico più di tanto perché per quello che mi riguarda io qualcosina la conosco l'ho studiata o magari l'ho appresa dai forum di fotografia un po' di parlo dell'ambito della fotografia perché diciamo sono appassionato però diciamo che in generale sono un po' con fatto così io qui sto rimanendo quasi a secco oh c'è un distributore di benzina perfetto quindi per i miei amici francesi io ho detto che se lo faccio e questo non apprende parla se non lo diciamo it's in my knowledge I see from where this knowledge comes from that's what I suppose that should be called honesty honesta taleba salute adesso però mi fermo un po' perchè sto facendo come si dice Napoli una capa di piacere tanto sorry if I was talking a lot it's my fault oh che prendiamo taleba cosa ti prendo un gelato oppure una birra io posso prendere il gelato perchè sto guidando tu cosa prendi di buono una birra e ma non ti fa sudare la birra ok una birrazza fresca fresca tutta per te ma aspettò ti tratti bene ti tratti ahahah quelle sono quelle biondi o quelle quelle rosse pare che e biondi mi pare che la maggior parte sono che sono tanti tanti le 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 Ottimo! Una bella strombazzata in tuo onore. Pannelli di prefabbricato. Salutiamo Pasqualino, però si dice proprio Pasqualino, il benzinaio. Allora, andiamo un attimo. Ok. Stavo sbagliando strada. In effetti la imbocchiamo più avanti l'autostrada. Ho la vaga impressione che qualcuno si sia addormentato in chat. E il suo nick porta il numero 77 alla fine. Eh? Mi sa che si è abisolato. Eh, ma quella è tutta colpa delle birrozze. Quellele sono le birrozze fresche che fanno appoggiare la testa sul poggiatesta a fianco. Eh, eh, eh. Scherzo, scherzo. Massimo rispetto. Sti freni. 1.400 dollari. Solo qua ha preso di molta. Ma con questo Fratliner, Fratliner, ho preso... Io ho montato un motore leggermente superiore. Ed un cambio a 16 rapporti. Ah. Ma su... su Twitch? Con... Prime Gaming? O Gaming Prime, come si dice? Ma con... che... Lecce... A la Express! Ah, ottimo! Oh, non male. Ma tu sei anche attrezzato col volante da Formula 1? Oppure come me hai un volantino tipo G27, G29, questi qui. Oddio, il G27 è un signor volante. Oramai ce l'ho da 10 anni. A dicembre fanno 10 anni che l'ho comprato. Unico proprietario, ciò è stato scritto e ho fatto un po' di manutenzione. Ho messo il grasso sia nei pedali, poi ho sostituito la molla e nel volante ho messo un po' di grasso. Ah, lo sai che c'è anche l'amico Renegade che anche lui gioca ai giochi di simulazione di guida. E anche lui mi ha detto che su alcuni giochi di simulazione è più semplice giocarci col pad. Ed effettivamente su alcuni giochi sì. Anche se io non è che sia poi portatissimo per i giochi di corse delle auto. Però me la sono caricato sul Gran Turismo. Però è vero, è un po' più complicatuccio con il volante. Grazie. 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 Via a costare un attimo qua. oh fatta esganciato i 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 che ho poi non ho mai acquistato i giochi in preordine quindi non saprei dirti e devi provare può darsi pure che... allora ora che mi sto ricordando quando ho acquistato i farming all'inizio era... si poteva giocare non aveva limiti di tempo c'erano soltanto alcuni trattori non disponibili poi dopo quando uscì la versione ufficiale allora dopo ho non hanno riscontrato diciamo così non hanno riscontrato alcun tipo di di problema quindi vado assicuro che ti farà giocare ma magari delle funzioni particolari arriveranno con l'uscita con la versione ufficiale della con l'uscita definitiva insomma ci saranno altre eh altre cose così come anche su Gran Turismo Sport stessa cosa preacquistato avevo alcune limitazioni appena poi è uscito ufficialmente mi ha ah e allora può darsi che lo sbloccheranno diciamo direttamente il giorno d'uscita ufficiale evidentemente forse per evitare di far spoilerare il gioco quello quando è che dovrebbe uscire che periodo ah e beh allora probabilmente e allora boh non so non so com'è la politica del gioco come perché per esempio io ho acquistato Range Simulator anche Range Simulator mi pare che ah il 15 luglio uscirà la versione diciamo quella definitiva quella giornata però mi hanno permesso di giocarci e l'ho pagato una ventina di euro scontato mi pare però un gioco da 60 euro dico almeno mezz'ora di gara vabbè può può darsi che magari in effetti tra qualche giorno che dovrebbe dovrebbero ufficializzare l'uscita del gioco ok come hai visto si è acceso il led rosso vabbè adesso tu vedi anche nell'interfaggio e quindi devo fermarmi a questa stazione di pesa esattamente qui fanno un controllo capillare come se dici a Napoli pil pil un controllo meticoloso mi è andata bene direi beh che le bombe non ci sono ancora usurate ho fatto un percorso appena 700 miglia fosse qualcosina in più e e comunque sto Freightliner è una soddisfazione grandissima lo sto trovando anche molto più ehh fluido e ehh 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 come dire ehh meno resistente che tira un po' di più rispetto ad anche anche ai veicoli più recenti come il Mac ehh poi qual'è l'altro che mi sfugge che comunque sono altri due o tre marchi adesso mi sfuggono ehh 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 infatti l'ho consigliato a diverse persone che ho incontrato qui sul multiplayer ehh 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 che mi scrivevano in chat e che poi ehh ehh hanno seguito anche parte della live quando mi hanno chiesto quale camion io ehh ehh avrei suggerito loro il risposto questo qui Freightliner che ha una linea particolare però come si dice a Napoli e non ci c'è fatica ovvero che tira 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 ma non si stanca mai ehh 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 allora Masterchef ti fa un baffo ehh scherzi a parte buona preparazione buona cena grazie soprattutto in primis per essere passato sul canale e poi grazie anche per il sostegno che hai dato con i bitterini appena potrò anche io cercherò di ehh come dire di ehh di ehh di ripagare la la fiducia che mi stai dando insomma da piccolo streamer grazie ancora per essere passato tanto poi ci becchiamo da gire ehh come Ligabue dice ci vediamo da Mario noi diciamo ci vediamo da gire ehh prima o poi ehh 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 grazie grazie talebano buona live buona live ho stato dicendo vabbè si buona live anche a te poi ci becchiamo più tardi buona continuazione buona carica batteria ehh grazie ancora per essere passato ciao please follow please follow la zappa storta take a follow it's free mi raccomando followate il canale di talebano 77 che è la zappa storta allora adesso dobbiamo buona ottimo ottimo ma mi sa che lui l'ho già ingrociato qualche volta l'ho già ho l'ho 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 un po' l'ho 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 Grazie a tutti. 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 A me ne vanno troppo. Ogni tanto cantiamo qualcosa di piattuale. Musica di cielo. Grazie a tutti. Relax. Relax. Grazie a tutti. Ma tu hai già finito la live o vai in live? Al momento tutto bene. Renegade 820 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie a tutti. Grazie mille direttore. Grazie a tutti. 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 presi in considerazione, solo che ho visto che costicchio un pochettino e quindi non essendo il mio genere di gioco sarei propenso più che altro a investire qualcosina per farmi che però te l'ho presente nella tua proposta perché le proposte vanno vanno valutate e poi come dire eventualmente cioè valutate quindi positivamente oppure non positivamente e quasi quasi approfitto per regalare il camion qua bisogna fare... fai quello che ti senti come ti ho sempre consigliato perché la live prima di tutto deve essere qualcosa che la fai per piacere e poi insomma anche per altre cose io per esempio ogni tanto mi capita di farmi una partita a Sniper Elite Multiplayer perché è l'unico gioco... cioè è un gioco che... tra tutti quelli che porto che mi carba di più ecco e poi perché mi coinvolge in prima persona e quindi mi svago con gli altri giochi... sì ci gioco però non è la stessa cosa ottimo mi fa piacere con enorme piacere ho detto devi... io dopo un lungo periodo dopo un mese e mezzo che ho iniziato a fare lo stream stavo perdendo anche il gusto di giocare per divertirmi però poi un pomeriggio mi sono messo su Sniper Elite e ho ritrovato un vecchio amico giocatore e lì poi dopo mi sono rilassato e divertito ok buona carica sciacquatoria all'amico pelosetto ciao buona serata e soprattutto come sempre grazie di essere passato in live capparoggero ottimo ciao ferbus buon divertimento saluro no 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 non no 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 Grazie a tutti. Tico-tico-tac. Bakersfield. This was the first city I chose where to one of the cities that I chose for having a headquarter. I love when I pass under the arch where it's written Bakersfield. Because in the nighttime it's a very beautiful thing. Hello. Hello, hello. I am live on Twitch now on double logistica one. Over over. I don't know if the other driver is on channel 19. So, let's see. 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 Let's try. Let's try. Mi mancano i bocchettoni dell'aria sulla strada, mi mista l'air flow, lì. Dapp Logistica, Radio Dapp Logistica 1, in vero soft gaming, la troi solo su Dapp Logistica, the real and the genuine soft gaming, you will find only on Dapp Logistica 1 channel. Over, over. Recolo, recolo. It should be yet to arrive at destination. Dovrebbero essere quasi arrivati a destinazione. I was distracted. Mi ero completamente distratto. Lo visto appena in tempo all'uscita. Chi-chia-la. 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 Vberg. Chi-chia-la. Ehm. Senti, straight on. Senti, straight on. A proposito dello sproposito, mi sono scordato che dovevo fare la foto. Mi sono scordato di fare qualche foto, o qualche foto. Senti, sono scordato. Gigi. 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 Fresno. Oh, siamo arrivati. Gigi. 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 Grazie a tutti. 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 And... 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 Grazie a tutti